Il breve viaggio che facciamo questa sera è proprio un viaggio alla ricerca di una risposta alla domanda che è che fine ha fatto l'uomo e per accettare l'idea appunto per capire meglio come faceva Socrate che rispondeva alle domande con altre domande che fine ha fatto l'uomo dobbiamo porci un'altra domanda, cosa c'era nel destino dell'uomo? A parte appunto questa sera ma forse faccio prima a dirlo e quindi dobbiamo accettare l'idea che esiste un destino ora io vi racconto due fatti veri che testimoniano come esiste un destino in qualche modo il primo di questi fatti risale a un'epoca relativamente recente e cioè quando il primo uomo ha toccato il suono lunare il Armstrong quando ha saltellato sulla luna ha detto delle frasi che sono risultate celebri che era tanti auguri mister Gorky e lui non ha mai voluto dare spiegazioni ma soltanto una quindicina d'anni fa 15 e mezzo per l'esattezza si è deciso a rivelare che cosa volesse significare questa misteriosa frase e ha raccontato quanto segue quando io avevo circa sette anni giocavo a palla nel mio giardino e la palla andò a finire nel giardino dei signori Gorky erano nostri confinanti io allora feci una cosa che non avrei mai voluto fare scavalcai il muretto e andai a raccogliere la palla che si era fermata sotto la finestra della camera da letto dei signori Gorky finestra aperta e mentre di nascosto raccoglievo la palla sentii la signora Gorky che diceva al signor Gorky sesso orale mai l'avrai solo quando il bambino che abita qua vicino andrà sulla luna grazie grazie grazie